Dagli Stati Uniti alla Turchia, passando per Grecia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Canada. Un mostro produttivo imponente e include un totale di 15 centri produttivi in 11 paesi. Articolo 11 della Costituzione Italiana L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dagli ultimi dati sull'export mondiale di armi, l'Italia risulta esportare in tutti i continenti. Per un totale di 117 paesi di esportazione, 50 dei quali non ospitano sul proprio territorio alcun tipo di conflitto. I rimanenti, però, sono stati denunciati da Amnesty International come paesi in conflitto e dove vi sono violazioni dei diritti umani. E sette di questi sono stati sottoposti ad embargo dalla Comunità Europea. La Comunità Europea prevede che ogni Stato abbia una legge che regolamenti i traffici d'aria.